anche la qua sulla curva spettacolo intanto c'ho il power bank chi se ne frega non ho sospeso poi ho fermato adesso io ritaglio tutti i pezzi perché tu puoi da qua con questo tasto ritaglio tutti i pezzi a 5 minuti e li butto male eccolo hai chiamato andrea è arrivato adesso 42 è passato allora ci stanno seguendo sì sì dalla francia però incredibile il reddito adesso che lo so figa dimmi quando si trova di qua e prossimo non c'è micidiale pazzesco vai patrick no ah lo conosce si era attaccato all'altro sì ma proprio a un dito solo l'arrivo è qua per fortuna l'arrivo è appena dopo qua dietro questa curva dunque male perché se no le andava addosso andava al doppio aia ah sì ma molto forte italiani si fa rumore sempre cantare chitarra mandorino silenzio di dormire tedeschi va bene marcovaldo marcovaldo cazzo sono neanche le sette sono neanche le sette già dormi ma scusami ma se mi è bravo un po' mi è fatta ora scusami marcovaldo esercizio un'altra cosa è non comunque non si non Carola, sei tu che non gli parli? Sì Sei tu che non gli parli? Sì No, veramente lui che non mi parla Vabbè, qui, tanto poi ci afforchiamo su chi parla o no Eh sì, no, doppio sì